buonasera ragazzi e benvenuti nel mio canale allevamento amatoriale di raffaele esposito prima di iniziare con un nuovo video vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina buonasera ragazzi e benvenuti nel mio canale allevamento amatoriale di raffaele esposito oggi vi faccio vedere qualche novello che si fa al bagnetto infatti come vedrete ci sono parecchi che si vanno ancora mutati e ci sono 3 a stil di capo blu vabbè mi lascio guardare il video e ci becchiamo tra poco buona visione ragazzi che si vanno ancora Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.